Buongiorno. Io sono Sara Giocolano e volevo chiederle se nonostante la carica che ricopre, quindi essendo un rettore universitario, medico e in modo molto ingenuo, le chiedo inoltre se padre di famiglia, se le è mai capitato di riuscire a non pensare anche per un attimo al disastro che la pandemia sta causando e nel caso di fare anche progetti? Allora, padre di famiglia no, questo è stato un mio non fallimento ma non mi ci sono applicato e quindi forse non mi sentivo all'altezza e quindi ho tralasciato questa attività che invece è importante se no la specie umana non si replica e oggi non saremo qui a parlarci. La pandemia sì ha fatto un disastro però guardate che non è così disastrosa alla fine, è disastrosa per il numero dei morti, questi non li potremo, e gli affetti di cui ci ha privato, questo sì, è disastrosa per la paura che ci ha portato dentro e che non riusciremo a toglierci perché il nemico invisibile fa paura, il nemico devi poterlo vedere e affrontare e sapere come, quando è invisibile è pauroso, quindi le dimensioni diventano quelle. L'insicurezza si è impadronita di noi però vediamo la luce in fondo al tunnel, cioè abbiamo visto anche che si può fronteggiare e quindi io sono vaccinato vedete però sulla mascherina è un segno che non siamo ancora del tutto convinti che funzioni tutto alla perfezione che possiamo non essere contagiosi e quindi però uno spiraglio la scienza ce l'ha data. L'aspetto positivo che ho colto è che di fronte a un grande disastro e concordo con lei l'essere umano ha saputo uscirne fuori, ha pagato un prezzo altissimo, questo senz'altro e magari lo pagherà ancora però non ci siamo resi e questo non arrendersi dà speranza e la speranza è necessaria per poter continuare altrimenti ci arrendiamo e dobbiamo continuare assolutamente a guardare avanti e arrivare in fondo al tunnel dove iniziamo a vedere quella luce e la stiamo vedendo, a marzo non la vedevamo, adesso marzo scorso intendo, adesso la vediamo e quindi questo è il messaggio che ho sempre portato avanti cioè quello che dopo la vita c'è comunque la vita, questo sicuramente.